Federica Amoro, Christian Badin Arianna, la più ribelle del collegio Marco, il più spericolato dell'accademia Se lo sventoli mentre scendo giù vuol dire che vieni a cena con me E se non lo sventolo? Non apro il paracadute Innamorarsi è inevitabile, ma a modo loro College, lunedì alle 20.30, a casa tua In famiglia, su Canale 5